Un'esplosione nel cuore della notte di un complesso residenziale di Farra di Feltre si è squarciato. Forse una fuga di gas a determinare la deflagrazione e fortunatamente il bilancio che poteva essere decisamente tragico è di una sola persona ferita, di 22 evacuati, di 12 appartamenti danneggiati. I vigili a fuoco intervenuti rapidamente con personale permanente e volontario sia di Feltre che di Belluno hanno provveduto a mettere in salvo alcune persone che erano rimaste intrappolate all'interno degli alloggi. Il ferito è il proprietario dell'appartamento dove è avvenuta l'esplosione ed è stato trasportato all'ospedale. I condomini evacuati sono stati trasferiti a bordo di un mezzo dei vigili a fuoco in una struttura alberghiera messa a disposizione dal comune, chi ha potuto ha trovato riparo da parenti. Gravi danni allo stabile con crollo dei muri di tamponamento sia interni che esterni, danni anche alla copertura del tetto. Dopo aver spento il rogo, le squadre di vigili al fuoco hanno provveduto al recupero di beni di prima necessità delle famiglie costrette ad abbandonare la casa. Accertamento in corso sulle cause dell'esplosione. Refrontano nel Trevigiano un anziano invece è stato salvato dal vicino di casa, vigile del fuoco fuori servizio. Nella sua abitazione si è sviluppato un incendio partito dalla termocoperta. Nella tentativa di raggiungere l'uomo, il vigile è precipitato dal solaio, lesionato, ferendosi. Nel frattempo sono arrivati i colleghi dal distaccamento di Conegliano che hanno portato fuori l'anziano intossicato dal fumo e spento l'incendio, inagibile al momento la casa.